lotteria solidale musica danza e testimonianze torna sabato sera la manifestazione con l'africa nel cuore si torniamo con la ventesima edizione perché lo ricordiamo anche che quest'anno la nostra associazione festeggia 20 anni dal punto dalla sua nascita una manifestazione che ricca di intrattenimento e danza e ma anche di tanta solidarietà infatti sarà con noi il gruppo della capogiro dance in theater diretto da simona paterniani lei insieme a tutti i suoi allievi porteranno un estratto dello spettacolo hercules adatto sia per bambini ma anche per i più grandi poi avremo la musica dal gambia di jabel canutè e tante testimonianze di vita è ancora possibile acquistare i biglietti per l'estrazione finale sì certamente in occasione di questo evento noi organizziamo una lotteria solidale un biglietto e si richiede una donazione di 2 euro e 50 è ancora possibile farlo si possono acquistare sul nostro sito internet oppure mandando un messaggio in whatsapp nel numero che troverete in sovraimpressione e tutti i fondi raccolti andranno a sostegno del centro di maternità in zambia che proprio sta arrivando alla sua conclusione al quasi completamento quindi ci manca veramente poco vi aspettiamo sabato 17 luglio all'anfiteatro astat per una festa all'insegna della musica e della solidarietà